Restiamo a casa. Questo è l'imperativo assoluto dei giorni nostri per limitare al massimo la mobilità e la vicinanza delle persone. A casa ma non isolati e questa è la necessità per alcuni cittadini. Necessità alla quale il Comune di Fano risponde mettendo sul sito istituzionale, nell'apposita sezione dedicata all'emergenza Covid-19, una lista di tutte le attività commerciali del nostro Comune che effettuano il servizio a domicilio. Una pagina appositamente creata all'interno del sito del Comune di Fano che vi darà la possibilità di accedere ad una lista di attività con nome, numero di telefono e tipologie di servizio in modo che potete scegliere il servizio migliore per le vostre necessità, telefonare l'azienda, effettuare l'ordine e vedervi la spesa consegnata a casa. Capite l'importanza del servizio perché oggi diventa fondamentale per noi rimanere in casa per cercare di passare questo momento nel modo più rapido possibile. Questa pagina è una nuova pagina che abbiamo implementato proprio ieri, la trovate all'interno della sezione degli aggiornamenti relativi all'epidemia coronavirus che ha creato da tempo il Comune di Fano, una pagina che porta il nome di aiuti e servizi alle imprese e alle attività economiche dove all'interno si potete trovare news dedicate alle attività economiche in riferimento al decreto legge che è appena uscito o in riferimento ad altri servizi e informazioni utili per le attività economiche stesse. Potete scaricare i documenti che sono stati creati in questi giorni di lavoro, ad esempio insieme alle associazioni di categoria con la richiesta di aiuti inviati al governo, con le nuove richieste che faremo e che vogliamo siano inserite nel decreto aprile che è già annunciato dal Ministro Gualtieri. Trovate appunto questo servizio di spesa a domicilio e oggi trovate anche i servizi che gli istituti di credito bancari locali stanno portando avanti e entrando le attività economiche potranno confrontarli, potranno visualizzarli, potranno scegliere il migliore. Insomma una pagina dove verranno inserite tutte quelle attività, tutti quei servizi per far sì che già fin da oggi si possano mettere in campo quegli strumenti per poter ripartire al meglio quanto tutto questo sarà finito. Inoltre tutte le attività economiche che intendono effettuare questo servizio per la cittadinanza e vogliono essere inserite nella lista possono contattare i numeri 0721 88 76 14 o 88 75 03 o mandare una mail a alessandro.crespi-comune.fano.pu.it